Il dolore incommensurabile per le vittime di abusi da parte di membri della Chiesa, siano essi sacerdoti o altri protagonisti laici e consacrati della vita ecclesiale, mi ha spinto ad abbracciare con convinzione il rinnovamento ecclesiale che si sta sperimentando da anni a questa parte su un tema così triste. Per questo, dopo attenta riflessione, ho individuato in Don Sabatino Fioriti il referente per la nostra diocesi sul tema degli abusi sui minori e sulle persone vulnerabili. Queste le parole di Monsignor Bruno Forte, arcivesco e metropolita Chieti Vasto, condividendo il percorso avviato da Benedetto XVI e proseguito da Papa Francesco, nel desiderio e nel coraggio di sradicare la cultura dell'abuso dalle nostre comunità. Alla comunità religiosa, a tutti i cristiani della nostra diocesi, dico di non avere paura della verità. La verità è che ci sono stati e ci sono ancora delle mancanze, degli errori, dei peccati da parte di uomini, di chiesa, persone impegnate nella chiesa e dobbiamo andare avanti in questa direzione senza aver paura. Ricordandoci soprattutto che le ferite e degli abusi non vanno mai in prescrizione, sono terribili e accompagnano le persone per tutta la vita. Monsignor Forte ha nominato anche un'equipe che affiancherà Don Sabatino, Marina Di Orio, assistente sociale, Barbara Di Clemente, psicologa e psicoterapeuta, Roberta Silvestri, educatrice, Matteo Caramanico, avvocato, Cristina Puglieri, pediatra e Pier Giorgio Greco, giornalista professionista. Il compito di questa equipe, insieme al sottoscritto, è quella di sensibilizzare la chiesa su questo problema perché purtroppo spesso pensiamo che queste cose non ci tocchino da vicino e che riguardano sempre altre situazioni, altri luoghi, altre nazioni e altre diocesi e poi una formazione innanzitutto dei sacerdoti ma poi di tutti gli operatori, i catechisti, gli educatori che lavorano e che sono impegnati nel servizio delle nostre parrocchie. Poi, se ce ne fosse bisogno, speriamo che non ce ne sia ma è bisogno, si affronteranno i casi di situazione di violazione dei bambini e quindi degli abusi sui bambini, sui minori e sulle persone vulnerabili. Per informazioni sul servizio di tutela dei minori si può contattare Don Sabatino Fioriti al numero 339-6267-216. Per mettersi in contatto con il centro di ascolto invece si può chiamare il numero 320-0703-181. A tutte le persone, agli uomini, alle donne di buona volontà chiedo di impegnarsi insieme nella difesa e nella salvaguardia dei minori, dei bambini e delle persone vulnerabili.